Nella pratica di sollevare il C in alto e riversarlo verso il basso, ci sono alcuni importanti requisiti. Qui, usare correttamente la nostra coscienza. Primo, quando le mani spingono in fuori, le mani si muovono. Qui, solamente, ci connettiamo con il C del puro universo. Non perdiamo il C. Noi abbiamo bisogno di sollevare il C in alto e riversarlo in basso. Non dobbiamo perdere il C. Altrimenti, come possiamo avere benefici da questa pratica? Quando le mani portano il C indietro, raccogliamo il C all'interno e il C entrerà completamente nel nostro corpo, nel centro, nel profondo. E' molto importante. Noi abbiamo bisogno di sollevare il C in alto e 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 il C in